Scusate, è la prima volta quindi abbiamo sbagliato i posti in cui sederci. In realtà non è la prima volta, abbiamo fatto una specie di trailer di questa rassegna a Faenza a settembre, quindi insomma è la prima volta bis. Allora, buongiorno a tutti di nuovo, benvenuti al Circo dei lettori che ormai ci ospita da tanti anni in questi appuntamenti del sabato mattina. Appuntamenti che di solito vedono protagonisti il direttore del post Luca Sofri e il vice direttore del post Francesco Costa che con le loro rassegne stampa dei quotidiani italiani insomma replicano un po' quello che Francesco fa ogni mattina con Morning, il podcast di rassegna stampa del post, separato agli abbonati, gli abbonati del post, format che in realtà precede Morning e l'ho anche affiancato in questi anni visto che appunto ormai ha preso una vita tutta sua. Così come Morning da qualche mese ha un'edizione del weekend, Morning Weekend che esce di sabato mattina curata da me sui quotidiani europei, sulle notizie europee, da una prospettiva europea che nella nostra intenzione diciamo permette di unire un po' di puntini rispetto alle cose che Francesco legge in settimana, in ugual modo ci siamo inventati diciamo e questo è un primo esperimento bis dicevamo, una rassegna stampa del mondo che si affianca alle rassegne stampa del sabato mattina al circo dei lettori di Francesco e Luca che hanno come base i quotidiani italiani. Non l'abbiamo detto, io sono Luca Misculin, qua a fianco a me c'è Eugenio Cau che è presentatore, conduttore, ideatore del celebrato podcast di politica estera Globo, esce ogni settimana ormai da cinque puntate si è trasformato in una lunga diretta su quello che sta succedendo a Gaza, su quello che è successo a Israele a inizio ottobre e direi che possiamo partire proprio da lì, nel senso che in questo momento se un alieno planasse sulla terra e desse uno sguardo al mondo probabilmente si accorgerebbe che un po' tutti i giornali, soprattutto quelli occidentali, sono concentrati nel cercare di raccontare, nel cercare di capire che cosa sta succedendo nella striscia di Gaza, quali saranno gli sviluppi e appunto cosa possiamo aspettarci. Partiamo ovviamente facendovi vedere non la prima pagina di un quotidiano italiano, come abitudine del filone principale di questa rassegna stampa, ma partiamo con un giornale israeliano. Arez è il principale quotidiano della sinistra israeliana, che fa riferimento alla sinistra israeliana, ha una doppia edizione, esce sia in ebraico sia in inglese e ormai da un mese e mezzo circa, è un vero e proprio punto di riferimento per chi vuole cercare di capire cosa sta succedendo da una prospettiva. Si vede? No. Eccolo. Perfetto. Come vedete è tutto ancora un cantiere questa rassegna. Aspetta, posso farti una foto? Aspetta. Grazie, è proprio un piacere. Dicevamo, Arez, oltre a essere il quotidiano di riferimento della sinistra italiana, è anche un punto di riferimento per chi cerca di occuparsi da qua del conflitto israelo-palestinese, perché ha un sito in inglese aggiornato costantemente, perché ha una serie di giornalisti sia sul campo sia commentatori che parlano un ottimo inglese, che scrivono un ottimo inglese e quindi è una fonte di informazione primaria per noi. Oggi Arez, tra l'altro, questa è l'edizione di ieri perché oggi è sabato e shabbat, i giornali non escono in Israele. Arez apre con la propria edizione con un pezzo di analisi, in sostanza, sull'invasione israeliana, che punto sta arrivando, a che punto è arrivata, quali sono le prospettive, e fa una constatazione, su cui poi adesso torneremo, sul fatto che Hamas, l'organizzazione radicale che, come sapete, ha attaccato Israele il 7 ottobre in una maniera senza precedenti, in una maniera inaspettata, non è ancora stata sconfitta. Insomma, che l'esercito israeliano non ha ancora raggiunto l'obiettivo dell'invasione. Come vi dicevo, Arez ha un'importanza molto prominente per noi, per la sinistra israeliana, ha un'importanza molto più ridotta però per la vita politica israeliana in senso più largo, nel senso che Arez ha una circolazione di qualche decina di migliaia di copie. Il giornale più letto in realtà in Israele invece si chiama Israel Hayom. Hayom, in realtà l'accento va quasi sempre sull'ultima in ebraico, è questo, esatto, che lo potete già vedere, non spaventatevi, è in ebraico ma non spaventatevi, come potete vedere ha già un'impostazione grafica molto diversa rispetto ad Arez. Israel Hayom è un tabloid, è un tabloid di quelli anche piuttosto sguaiati, nei periodi in cui non c'è una guerra o non è in corso un ciclo di violenze in Israele e in Palestina, apre con i calciatori, apre con le showgirl, apre con la relazione segreta del sottosegretario, insomma esattamente quello che ci potremmo aspettare da un tabloid e per farvi capire appunto siamo proprio nello stile del Daily Mail di cui credo che abbiate sentito parlare molto spesso in queste rassegne condotte da Luca e Francesco. È un giornale che diciamo segue anche un po' la tradizione dei tabloid nel suo essere molto conservatori e molto legati a una certa visione del mondo. Israel Hayom è stato fondato da Sheldon Adelson che è un po' il Rupert Murdoch israeliano, era, è morto un paio di anni fa, cioè è una persona, un imprenditore con moltissimi interessi in vari settori, molto amico delle persone che contano, molto amico di Netanyahu. Israel Hayom è nato se non ricordo male 15 anni fa con una operazione più politica che editoriale perché quasi da subito diventò un giornale gratuito e capite bene che in un momento in cui i giornali un po' in tutto il mondo hanno perso copie proprio perché le persone hanno, insomma avevano meno soldi in tasca, avevano deciso di dare meno priorità all'acquisto di giornali. Questo rese in pochi anni Israel Hayom il giornale più letto in Israele e tuttora lo è. Israel Hayom oggi apre con, anzi ieri apriva con una foto che come vedete non è una, già dalla foto si capisce che non è un giornale che cerca di spiegare, contestualizzare, dare ai lettori una visione un po' sfumata e sfaccettata di quello che sta succedendo, c'è una foto di un soldato israeliano che tiene una bandiera dello Stato di Israele all'interno della striscia di Gaza. In particolare il titolo di apertura, adesso l'abbiamo tradotto stamattina con tutto un lavorio, io ho studiato ebraico all'università, mi sono dimenticato tutto. Il titolo di apertura è sul fatto che nella striscia di Gaza, è una specie di inchiesta sul fatto che nella striscia di Gaza una delle unità più coinvolte nel cercare i tunnel da cui i miliziani di Hamas sembra abbiano attaccato Israele nel appunto cercare anche i miliziani di Hamas in questa settimana, ecco una delle unità più coinvolte sia la brigata Golani che è una unità d'elite dell'esercito israeliano, è una delle più celebrate, tre dei suoi capi sono diventati poi capi dell'esercito e i toni sono anche molto trionfalistici, si legge per esempio nei sottotitoli la prima cosa che colpisce a Gaza è la potenza dispiegata dall'esercito israeliano nelle strade, per Hamas è l'ultima battaglia. Insomma i toni sono un po' quelli che immaginate anche solo appunto osservando l'immagine, osservando i caratteri con cui sono scritti, osservando anche le scelte editoriali che sono state fatte nel comporre questa prima pagina. In realtà i giornali e questo ci dà anche un po' la dimensione del panorama informativo in cui sono immersi gli israeliani questo è tutto un altro tema di cui oggi purtroppo non avremo molto tempo di parlare però quella è la loro bolla diciamo in una serie di giornate in cui sui giornali occidentali, sui giornali italiani, sui giornali europei si parla tantissimo dell'operazione israeliana in termini di palestinesi uccisi prove che vengono fornite o meno nella presenza di tunnel sotto gli ospedali, adesso ne parleremo il principale quotidiano israeliano sceglie di aprire con una foto di fatto propagandistica dicevamo però che appunto sui giornali internazionali le notizie riguardo a quello che sta succedendo nella striscia di Gaza sono un po' altre, giusto? Sì, allora da ormai diversi giorni, diciamo più di una settimana in realtà le notizie attorno a quello che sta succedendo nella striscia di Gaza si concentrano sugli ospedali e in particolare sull'ospedale Al-Shifa, lo sapete tutti, è il più grande ospedale della striscia un ospedale che in questo momento ospita migliaia di pazienti, persone malate molte si sono spostate ma che è stato attaccato dall'esercito israeliano prima con una campagna di bombardamenti tutto intorno, poi gli israeliani sono entrati dentro l'ospedale perché Israele sostiene che sotto le strutture di questo ospedale si trovino i tunnel di Hamas e uno dei centri di comando militari di Hamas il problema che ancora non sappiamo se definire un problema perché dobbiamo un po' dare tempo alle cose di succedere è che finora è stato trovato relativamente poco dentro a questo ospedale e sotto questo ospedale questo non significa che non sarà trovato in futuro, potrebbe succedere però ora come ora diciamo che le prove che giustificano l'attacco di un ospedale da parte di un esercito che è una cosa molto complicata, parlavo l'altro giorno con un esperto di diritto internazionale di fatto non c'è nessuna componente del diritto internazionale che giustifichi l'attacco di un ospedale cioè non c'è, è un crimine di guerra appunto, quasi nel 99,9% dei casi per cui per giustificare una cosa del genere devi trovare delle cose grosse e finora non ce le hanno mostrate, magari le hanno trovate ma finora non ci sono state mostrate la cosa interessante lo racconta il New York Times di oggi e ve lo faccio vedere qui a pagina 5 prego perché il New York Times è stato il primo giornale a riuscire a entrare all'interno dell'ospedale di Al-Shifa dopo che gli israeliani sono entrati anche loro questa è già una cosa di per sé abbastanza interessante finora i giornalisti internazionali non hanno potuto e non sono potuti entrare nella striscia di Gaza ci sono state delle piccole missioni in cui i giornalisti sono entrati a seguito dell'esercito israeliano compresi alcuni giornalisti italiani fra cui Fabio Tonacci della Repubblica però sempre in condizioni molto sanitarizzate diciamo finora i giornalisti entravano nella periferia sud di Gaza City nella periferia sud della città di Gaza e diciamo che non vedevano quasi niente cioè venivano portati in gita dai militari israeliani in una situazione anche molto complicata perché c'erano sparatori e c'erano bombe però venivano portati in gita vedevano un po' di palazzi distrutti, un po' di macerie alcuni giornalisti hanno visto gli abitanti palestinesi della città di Gaza che uscivano dalla città e andavano verso il sud con le bandiere bianche Tonacci ha fatto un pezzo proprio su questo peraltro però il New York Times è riuscito sempre accompagnandosi all'esercito israeliano a entrare nell'ospedale di Al-Shif e questa è una cosa molto notevole adesso io vorrei cercare di... come fanno di solito Costa e Sofri? ditecelo voi, non so allora proviamo così ecco io vorrei leggere qui allora io continuo a documentare questa situazione ma poi capiterà perché vorrei leggere anche tu a un certo punto chi può dirlo? quasi 48 ore dall'ingresso nel più grande complesso ospedaliero di Gaza l'esercito israeliano ha accompagnato i giornalisti del New York Times in un paesaggio di distruzione di guerra giovedì notte ah giovedì notte scusate poi c'è anche tutto questo già è piccolo in più devo tradurre sul momento ah vabbè allora facciamo così ti ha dato del lei grazie in pratica il New York Times sta raccontando qui che giovedì notte l'esercito di Israele ha fatto vedere ai giornalisti del New York Times un'apertura nel terreno all'interno di uno dei complessi dell'ospedale che è questo buco qui e l'esercito israeliano sostiene che questo sia uno delle strutture uno dei tunnel di Hamas all'interno dell'ospedale il giornalista del New York Times dice le forze israeliane temendo booby traps che sono delle trappole esplosive non sono ancora entrati all'interno di questo tunnel che vedete fotografato perché dicono potrebbero ancora esserci dei miliziani di Hamas al suo interno e non è ancora chiaro se dove porti questo buco questo tunnel e quanto in profondità vada però sono visibili all'interno dei fili elettrici per cui significa che qualche tipo di infrastruttura c'è ripeto come dice lo stesso New York Times queste sono prove ma un po' devolucce diciamo tanto che il New York Times dice questa visita controllata quella del New York Times nell'ospedale di Al-Shifa non porrà fine alla questione se Hamas il gruppo armato palestinese che controlla Gaza abbia usato l'ospedale di Al-Shifa per nascondere armi e centri di comando militari come sostiene l'esercito israeliano qui poi c'è tutto un racconto piuttosto interessante di come è andata questa spedizione dei giornalisti del New York Times all'interno dell'ospedale di Al-Shifa e questo penso che sarà l'ultima cosa metagiornalistica no, la penultima cosa metagiornalistica che faremo oggi però è molto interessante perché per esempio i giornalisti quelli che vi raccontavo che erano andati nella periferia della città di Gaza avevano dovuto non soltanto a tenersi in maniera piuttosto stretta agli ordini e alle istruzioni dell'esercito israeliano ma avevano anche dovuto far vedere all'esercito israeliano ai portavoce dell'esercito israeliano tutto il materiale che avevano prodotto per cui e questo per esempio cito ancora Tonaci su Repubblica l'ha scritto questa settimana e se avete sentito Morning lo ha citato anche Francesco nella sua rassegna stampa Tonaci ha dovuto far vedere l'articolo ha dovuto far vedere le foto ha dovuto far vedere tutto qui è molto interessante perché invece il New York Times dice i giornalisti di New York Times sono stati ai giornalisti è stato concesso di vedere soltanto una porzione dell'ospedale racconta di come si siano sentite sparatorie però dice a un certo punto il Times non ha concesso all'esercito israeliano di controllare in precedenza il testo prima della pubblicazione per cui un elemento interessante un'altra cosa interessante che dice questo articolo e la dice qui cerca un po' di spiegare perché per Israele trovare le prove che Hamas fosse sotto questo ospedale è importante non soltanto perché appunto bisogna giustificare un atto così grosso come attaccare un ospedale ma anche perché l'abilità la capacità di Israele di provare la sua affermazione per cui Hamas usa l'ospedale come una copertura potrebbe essere una chiave per decidere se gli alleati stranieri continueranno a sostenere la sua risposta militare ad Hamas per cui anche da questo genere di cose potrebbe dipendere il sostegno che Israele riceve nel mondo aggiungo un pezzetto al racconto metagiornalistico che facevi su appunto l'ingresso controllato dei giornalisti all'interno della stiscia di Gaza scortati dall'esercito israeliano Israele ha un po' questo approccio in generale anche in tempo di pace nei confronti dei giornalisti occidentali per fare giornalismo in Israele anche quando appunto non è in corso un ciclo di violenze o una guerra come in questo caso bisogna passare da un'altra fila piuttosto complicata piuttosto lunga io mi ricordo che le ultime due volte che sono stato lì ho dovuto ed ero lì appunto per lavoro avevo fissato le interviste dovevo andare in certi posti per far sì che tutto il viaggio fosse appunto documentato e che fossi sostanzialmente in regola con lo Stato israeliano ho dovuto fare una richiesta settimane prima a un ufficio l'ufficio che coordina l'ingresso dei giornalisti stranieri in Israele dipende direttamente dall'ufficio del primo ministro quindi c'è un collaboratore di Netanyahu che appunto è il capo di quest'ufficio è stato necessario mandare una lettera firmata dal direttore Luca Sofri che certificasse che io Luca Misculin stavo andando a fare questa cosa qui questa cosa qua quando sono arrivato in Israele io diciamo la seconda volta lo sapevo già la prima non lo sapevo io pensavo di trovarmi diciamo la tessera la press card da giornalista così di doverla semplicemente ritirare ho scoperto che quando si ritira questa tessera in realtà è il momento in cui un funzionario dell'ufficio che controlla il lavoro dei giornalisti occidentali ti fa una specie di colloquio per capire anche un po' che intenzioni hai dove vuoi andare da che part insomma da che prospettiva vuoi raccontare questa storia e fa un po' ridere che questo palazzo diciamo questo ufficio è situato in un palazzo alla periferia di Gerusalemme dove è pieno di insomma dove è circondato da start up quindi ci sono insomma uno scenario un po' un'ambientazione un po' alla Silicon Valley piena di gente con gli occhiali che beve caffè molto elaborati e poi al 17esimo piano c'è questo ufficio però insomma dà un po' la misura di cosa voglia dire anche insomma lavorare in un paese come Israele e quali sono le costrizioni quali sono invece anche le possibilità che offre nel senso che ormai c'è un'abitudine insomma ad avere a che fare comunque con i giornalisti occidentali e a garantire loro un minimo di accesso anche se condizionato quindi insomma è un rapporto un po' simbiontico diciamo così un po' un po' complicato da gestire sia per noi sia per loro immagino però diciamo allontaniamoci da Gaza perché questa è stata la settimana in cui ce lo dicevamo anche in realtà all'inizio settimana discutendo con i colleghi e le colleghe del post questa è stata forse la prima settimana dall'inizio della guerra in cui in giro per il mondo sono successe tante cose interessanti o in cui ce ne siamo accorti diciamo questo è un altro è un altro livello della discussione ci sono state tante notizie già a partire dal lunedì che richiedevano la nostra attenzione che richiedevano di essere capite e spiegate per esempio se questa settimana diciamo in un mondo in cui non esistesse la guerra avremmo voluto fare il post lo stesso ecco ci saremmo occupati sicuramente molto a lungo della formazione del governo in Spagna che è arrivato alla fine di un processo lungo quattro mesi perché si è votato il 25 luglio se non sbaglio in Spagna processo molto complicato molto delicato anche perché come sapete facciamo un paio di passi indietro le elezioni in Spagna che sono tenute il 25 aprile non hanno avuto nessun chiaro vincitore nel senso che il partito che aveva vinto le elezioni fra molte virgolette cioè che aveva ottenuto più voti degli altri è stato il partito popolare di centrodestra la storia di questo voto però sin dalle prime ore sin dallo spoglio sin dallo scrutinio è stata la grande rimonta del partito socialista guidato dal primo ministro uscente Pedro Sanchez che era dato molto molto in svantaggio e che invece ha recuperato parecchi consensi negli ultimi giorni soprattutto a quanto sembra dai dai sondaggi dagli studi di flusso elettorale sul partito popolare questo ha creato una situazione di stallo per cui alla fine il partito popolare aveva vinto ma non aveva sufficienti diciamo i suoi alleati non avevano ottenuto un sufficiente consenso per banalmente formare una maggioranza il principale alleato del partito popolare anche se è un'alleanza un po' di nuovo un po' traballante un po' tira e molla è Vox il partito di estrema destra alleato di fratelli d'italia che però è andato molto male alle elezioni comunque non è andato così bene come ci si aspettava e quindi diciamo la coalizione di destra centro non aveva un necessario insomma non aveva il numero necessario di seggi per governare che è 176 perché nella camera bassa del governo nella camera bassa del parlamento spagnolo che è quella che conta i seggi sono 350 il partito socialista era andato bene i suoi alleati così cos'ha l'unica strada e se lo si è capito sin da subito sin dal primo giorno dopo il voto l'unica strada per rimanere al potere per permettere ai socialisti a Sanchez di rimanere al potere era quella di formare un patto del diavolo diciamo così con tutte le forze indipendentiste e autonomiste comprese quelle catalane ora il partito socialista ha sempre avuto una posizione piuttosto centralista e molto ostile all'indipendentismo che sia quello catalano che sia quello basco e quindi diciamo questa esigenza ha richiesto anche un po' di tempo come diceva prima Eugenio dobbiamo dare anche un po' il tempo alle cose di succedere e in Spagna insomma sono stati necessari quattro mesi per avvicinare le forze autonomiste indipendentiste alla coalizione di centrosinistra giovedì Sanchez è riuscito a giurare di nuovo da primo ministro la notizia di un accordo era arrivata qualche settimana fa già da già dal dai numeri già delle circostanze insomma in cui Sanchez ha giurato si sta capendo che questo governo sarà estremamente traballante e che ha soprattutto due punti interrogativi che alleggiano sulla sua vita politica il primo è un punto è un problema parlamentare intanto possiamo far vedere la pagina di Le Monde che ne parla perché tra l'altro ha una foto anche interessante il primo punto politico e parlamentare è che la maggioranza si regge in sostanza su tre parlamentari perché questa enorme trasversale coalizione che va dalla sinistra al partito centrista autonomista delle isole canarie ha a disposizione 179 seggi come vi dicevo la maggioranza ne ha 176 anche diciamo ha escluse le formazioni più piccole che hanno sono due che sono questa del partito delle canarie e il partito autonomista galiziano che hanno che controllano un seggio a testa tutte le altre hanno più di tre seggi capite bene che quindi per ogni misura per ogni singola misura che il governo dovrà approvare Sanchez dovrà assicurarsi di avere tutti a bordo ed è una questione un po' complicata un po' un po' irrisolvibile nel senso che che non si è mai soprattutto negli ultimi anni non si è mai verificata negli anni scorsi soprattutto per alcune misure più importanti il partito socialista ha potuto contare per esempio su Ciudadanos che era il partito di centro-centrodestra che a volte insomma era un centro-centrodestra abbastanza ragionevole e quindi su alcune misure e leggi di compromesso votava insieme ai socialisti anche i popolari ogni tanto votavano insieme ai socialisti su alcune misure limitate questo non potrà succedere nel senso che il partito popolare di oggi Vox sono molto più insomma si stanno dirigendo verso destra quindi Sanchez dovrà per forza di cose fare affidamento solo sulla propria maggioranza e mettere insieme partiti appunto molto diversi fra loro una maggioranza così eterogenea non sarà non sarà facile in più c'è ovviamente il problema di cui si sta discutendo di più in Spagna e cioè quello dell'indipendenza della Catalogna nel senso che questo era un tema Eugenio poi ne sa molto più di me e adesso vi racconterà qualche cosa in più a riguardo il tema dell'indipendenza catalana si era un po' spento negli ultimi anni e il fatto che Sanchez per assicurarsi di rimanere primo ministro abbia dovuto stringere di nuovo un patto col diavolo con i due principali partiti che rappresentano l'indipendentismo catalano a livello nazionale spagnolo e quindi sono l'IRC che è un po' il palito di sinistra che rappresenta la sinistra catalana ma soprattutto uniti per la Catalogna che è il partito espressione della borghesia di Barcellona vicino su certi punti al centrodestra che è il partito fondato da Carles Pigemont per diciamo Pigemont sapeva di avere un'ottima mano e sapeva di avere in pugno Sanchez per diciamo abbarattato il sostegno al governo con un'amnistia per tutti gli attivisti catalani coinvolti nel referendum nel 2017 e una legge che incidentalmente se ne sta parlando poco in Italia ma credo sia abbastanza decisiva consentirà alla Catalogna che è una delle regioni più ricche in Spagna di tenersi il 100% delle tasse che raccoglierà questo comporterà delle conseguenze a breve termine e le ha già comportate nel senso che Sanchez è riuscito a formare una maggioranza è riuscito a rimanere il governo e però anche alcuni commentatori in Spagna sottolineano che sia stata una scommessa interessante sul futuro a medio o lungo termine della Spagna nel senso che riportare al centro la questione catalana potrebbe aprire il proverbiale vaso di Pandora è una scommessa sul fatto che Sanchez e i socialisti riusciranno a tenere buoni diciamo gli indipendentisti catalani non è la prima volta che Sanchez fa un'operazione politica di questo genere nella nella sua carriera sì Luca vi aveva promesso che vi avrei raccontato un sacco di cose in realtà la volevo mandare un po' in vacca perché volevo dare un po' di tridimensionalità questa figura di Pedro Sanchez e volevo chiedervi qual è la ragione per cui più o meno tutti conoscono Pedro Sanchez per cui è insomma molto apprezzato visto nel mondo la ragione per cui ci sono molte sue foto sui giornali quando si parla di crisi governo c'è proprio un bell'uomo Pedro Sanchez scusate è un uomo molto bello è molto alto anche guardiamolo è alto alto peraltro fra l'altro ho tutta una serie di aneddoti di giornaliste e giornalisti che perdono un po' il controllo alla presenza di Pedro Sanchez che non che non non condividerò con voi però volevo approfittare di questa cosa per farvi vedere questo articolo che è uscito ieri sul Paese che è il principale giornale spagnolo è un giornale di centro-sinistra e il titolo è Pedro Sanchez le mille facce di un giocatore d'azzardo perché Sanchez oltre a essere bello oltre a essere insomma un personaggio molto interessante all'interno del sistema politico spagnolo è una figura politica interessantissima è una figura politica che è in giro da dieci anni è diventato segretario del partito socialista spagnolo per la prima volta nel 2014 ed allora è riuscito a rimanere sempre sulla cresta dell'onda facendo delle scommesse ad altissimo rischio robe che in Italia non ci immaginiamo nemmeno e vincendole tutte Sanchez me lo sono segnato Sanchez è diventato segretario nel 2014 è stato costretto a dimettersi nel 2016 perché non sosteneva il di di non era era contrario a sostenere il governo di centro-destra di Mariano Rajoy si dimise anche da deputato tanto che tutti dissero è uscito dalla politica basta è finita nel 2017 rivinse le primarie con tutto il partito socialista contro di lui e nel 2018 fece una cosa che era la prima volta nella storia della Spagna che si faceva cioè fece una mozione di sfiducia contro Rajoy cioè disse voglio sfiduciarti ottenne la maggioranza lui e per come funziona il sistema spagnolo divenne lui primo ministro da quel momento è sempre rimasto primo ministro alle ultime elezioni quelle che sono state indette questa primavera che poi sono state celebrate a luglio sono elezioni anticipate che lui ha ha indetto perché aveva aveva avuto un cattivo risultato delle elezioni regionali e tutti i sondaggi tutti i sondaggi dicevano che che Sanchez avrebbe perso e invece sorprendentemente con una campagna elettorale anche anche molto molto dura Sanchez è riuscito come raccontava Luca a non a vincere perché il partito socialista non è stato il primo partito ma a far umare un governo questo ha reso Sanchez una figura molto contraddittoria anche molto polarizzante all'interno della politica spagnola tanto che si parla di sancismo è una parola che usa il centrodestra per dire come dire il protagonismo e la capacità di Sanchez di uscire riuscire sempre ad averla vinta ed è una cosa interessante perché è lo stesso Sanchez che ammette questa cosa e che racconta questa cosa in questo articolo interessante mi sono tirato giù alcune alcune parti in cui lui dice mi guardo all'indietro e mi rendo conto queste sono parole di Sanchez del fatto che ho vinto due primarie contro tutti i pronostici ho vinto una mozione di sfiducia contro tutti i pronostici ho vinto cinque elezioni nel 2019 non le ha vinte tutte in realtà qui esagera un pochino diciamo contro tutti i pronostici non ho mai avuto un'elezione facile ma a me i pronostici non mi fanno niente mi rafforzano nella determinazione e così via insomma e poi a un certo punto chiede e lui dice sono una persona molto competitiva esigo molto da me stesso e me la godo molto e questo insomma è una cosa interessante raccontare Sanchez dargli un po' di tridimensionalità oltre a quello che vediamo insomma sui telegiornali ecco stamattina probabilmente verrà formato il partito l'altra Europa con Pedro Sanchez che si presenterà alle elezioni europee era una battuta un po' elaborata ma era una battuta rimaniamo su Le Monde perché una cosa che proviamo a noi qui abbiamo la scaletta e nella scaletta io ho scritto misculin gancio indoeuropei per cui adesso con calma nel senso che proviamo a rifarci un po' al modo in cui Luca e Francesco conducono questa rassegna a farvi vedere anche un po' come sono fatti questi giornali Le Monde è un giornale molto particolare è ormai da decenni il più letto quotidiano in Francia e a parte una peculiarità tutta sua per cui è uno dei pochissimi giornali europei che esce di pomeriggio per una lunga tradizione che in Francia come altrove ormai è quasi svanita ma insomma oltre a questa particolarità è un giornale che dà un grandissimo spazio che dedica una grandissima attenzione e anche molte risorse di redazione al racconto della politica estera racconto di cosa sta succedendo nel mondo e quindi in una giornata tipo voi sapete bene che aprite un quotidiano italiano qualsiasi e potete star certi che troverete 7, 8, 9, 10 12 pagine di politica interna in una giornata tipo aprite le mond e nello sfoglio delle prime 4, 5, 6 pagine trovate articoli di esteri in sostanza ragazza ma anche cose un po' meno scontate Turchia Stati Uniti e poi a pagina 5 quindi prima di addentrarsi nel racconto della politica francese fra l'altro oggi c'erano anche ieri per questo giornale di questa edizione di ieri c'erano anche delle notizie in senso che Macron ha rinunciato il presidente francese Macron ha rinunciato a tenere un referendum a cui teneva molto per provare a raccogliere un po' di consenso attorno alle sue proposte sull'immigrazione però c'era una notizia grossa a cui raccontare Le Monde da cui partire per raccontare la quotidianità in Francia Le Monde invece ha deciso di partire dagli esteri e a pagina 5 c'è questo articolo interessante sia per delle metaragioni nel senso che è stato scritto dal corrispondente di Le Monde in Pakistan ora io insomma non conosco esattamente la dislocazione dei corrispondenti italiani non credo che nessun giornale italiano oggi abbia un corrispondente dal Pakistan ma correggimi se sbaglio Le Monde ce l'ha avrei qualche dubbio anche sull'India sincero perfino sull'India tra l'altro è interessante che non abbiamo nessuno a raccontare l'India cioè un paese che sta occupando un pezzo sempre più rilevante delle cose del mondo il Pakistan una notizia sul Pakistan un'inchiesta sul Pakistan trova spazio a pagina 5 di Le Monde ed è un'inchiesta interessante nel senso che da anche un po' di rende un'immagine del Pakistan anche un po' più sfaccettata rispetto a quella che possiamo avere da qua io trovo sempre interessante quando un giornale propone un'inchiesta una storia una vicenda che sfidi un po' le nostre convinzioni cioè io trovo molto stimolante leggere giornali così appunto in cui comunque il lettore viene stimolato intellettualmente ecco diciamo perché racconta la storia di questo gruppo di persone di questa categoria di persone in in Pakistan che in sostanza la cui vita quotidiana è stata resa complicata da una sentenza della Corte Suprema Islamica voi sapete che il Pakistan è una Repubblica Islamica quindi a fianco dei tribunali agiscono anche tribunali religiosi e il Tribunale il Supremo Tribunale Islamico sta appena sotto la Corte Suprema la Corte Suprema propriamente detta cosa è successo a maggio il Supremo Tribunale Islamico ha in sostanza dichiarato fuori legge tutta una categoria di persone che in Pakistan ha un ruolo ha uno status riconosciuto da secoli e sono i cosiddetti Isra sono delle persone che non si identificano né col genere maschile né col genere femminile è un po' problematico applicare loro le categorie con cui siamo abituati a descrivere le persone qui in occidente non sono esattamente le persone transgender sono delle persone che interpretano il proprio genere con molta fluidità ma sono una categoria appunto riconosciuta e anche piuttosto ricca di persone sono circa 300.000 in Pakistan e di nuovo hanno un ruolo hanno una presenza molto visibile nella società pakistana sembra siano stati qualcuno li riconduce a una categoria di persone che si è che è nata quando il Pakistan è stato invaso dai mongoli ed è stato occupato e governato dai mongoli quindi parliamo circa del 1300 1400 e quindi appunto tra l'altro la cosa interessante è che questa questa figura questa figura di persone è una è presente in tutte le culture del sud-est asiatico è presente in tutte le culture in cui la lingua prevalente discende dal proto-indo-europeo che è questa lingua antenata insomma che si parlava so che insomma siete appassionati e posso citarlo così e deriva da una radice che significa in sanscrito significa allontanarsi quindi forse è un insomma era un modo per descrivere persone che si allontanavano diciamo da una condizione un po' rigida maschio-femmina uomo-donna la dice ma lasciando perdere questo speriamo che la corte costituzionale che dovrà giudicare questa questa sentenza l'inchiesta di Le Monde parla appunto di come la vita di queste persone igera sia stata resa molto complicata perché ha anche legittimato discriminazioni nei loro confronti un'associazione che si occupa dei loro diritti ha annunciato che fra un appello la corte costituzionale nei prossimi mesi dovrebbe esaminare questa sentenza emessa dal tribunale islamico speriamo che gli avvocati della difesa diciamo presentino tutti questi elementi storico-linguistici per per difendere per difendere la causa degli Isra vi dicevo che questa di Le Monde di aprire pagina 5 con una storia sul Pakistan è stata una scelta piuttosto originale in realtà nei giorni scorsi sfogliando Le Monde e credo che a un certo punto sia addirittura arrivata in prima pagina questa notizia la storia più rilevante forse rispetto a di nuovo vicende del mondo cose che sono accadute questa settimana è stato sicuramente l'incontro fra il presidente statunitense Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping è stata una visita interessante è stata una visita molto raccontata anche dai giornali internazionali anche da quelli italiani insomma in tanti hanno almeno mostrato la foto una più foto delle strette di mano dei sorrisoni in prima pagina è passato qualche giorno e quindi i commentatori gli analisti hanno avuto anche il tempo di digerire di osservare che cosa è successo nei giorni successivi a questa visita e quindi oggi sui giornali internazionali si trovano tante analisi di quello che è successo di quello che sono detti Biden e Xi Jinping a questo punto ovviamente lascio la parola a Eugenio per sintetizzarci un po' che cosa si è detto di questo incontro si facciamo una premessa le visite internazionali sono sempre noiosissime però questa è molto importante per cui dobbiamo parlarne perché è stata la prima visita di Xi Jinping negli Stati Uniti dal 2017 ed è la prima volta in un anno l'ultima volta era stato penso esattamente un anno fa a Bali che Xi Jinping e Joe Biden si incontrano di persona la cosa la cosa più importante che le persone si sono portate via da questa da questa da questa visita che giornalisti che gli analisti è che è stata cordiale e uno dice beh dovrebbe essere abbastanza scontato e però ultimamente i rapporti fra Stati Uniti e Cina erano messi così male erano così complicati da tutta una serie di questioni ricorderete la famosa questione del pallone aerostatico spia di cui si è parlato qualche mese fa c'è la questione di Taiwan c'è tutta una serie di cose la guerra commerciale che rende complicato il rapporto fra Stati Uniti e Cina al punto che Stati Uniti e Cina si parlavano molto poco e il fatto che Xi Jinping e Biden siano stati molto cordiali dai giornali viene raccontato in maniera proprio enfatica l'inizio il primo pezzettino di questo articolo del Financial Times racconta di come a un certo punto Joe Biden fa vedere a Xi Jinping una fotografia e dice conosci questo giovane uomo che è ritratto nella fotografia e Xi Jinping sorride e dice sì sono io 38 anni fa e c'è tutto l'aneddoto di lui che era andato negli Stati Uniti da giovane bla 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 questa cosa soprattutto da un giornale molto molto impostato come il Financial Times stride un po' però è davvero importante perché in questo momento le relazioni fra fra Stati Uniti e Cina si nutrono perfino di cortesia i risultati di questo incontro sono principalmente due uno riguarda il fatto che la Cina cercherà in realtà l'ha già promesso 18 volte però cercherà di controllare le esportazioni dei componenti che servono a fare il fentanyl che è questo questo opioide molto 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 potente che alimenta la crisi degli opioidi negli Stati Uniti la seconda il secondo grosso risultato di questo incontro è che l'esercito americano e l'esercito cinese torneranno a parlarsi cioè ristabiliranno le comunicazioni fra eserciti che erano state interrotte l'anno scorso quando la speaker della camera Nancy Pelosi era andata in visita a Taiwan i cinesi avevano interrotto queste comunicazioni questo per dirvi a che punto erano ridotte le relazioni fra i due paesi perché è importante questa cosa perché stabilire comunicazioni militari fra i paesi significa stabilire un framework una situazione di prevedibilità che in termini per così dire strategici prevedibilità non è noia ma è il fatto di sapere cosa stanno facendo gli altri nel limite insomma di quello che può essere detto pubblicamente prevedibilità significa che se c'è una porta aerei americana che naviga nell'oceano indiano e vede una porta aerei cinese la porta aerei americana può dire ah sì effettivamente c'era stato comunicato che ci sarebbe stata in quest'area dell'oceano indiano anche una porta aerei cinese ma se la porta aerei americana non lo sa magari si sospettisce magari succede qualcosa e quindi ristabilire le comunicazioni ristabilire la prevedibilità è importante per evitare incidenti Anthony Blinken il segretario di Stato ha detto che uno degli obiettivi principali di questo incontro era evitare sorprese e questo anche per dire come siamo messi c'è poi tutta una serie di c'è poi tutta una serie di analisi per esempio questa del New York Times qui su come giudicare sul lungo periodo questo incontro questa nuova cordialità fra Xi Jinping e Biden perché molti commentatori qui per esempio David Sanger su New York Times dicono la questione che rimane sotto traccia è se questa charm offensive questa questa apertura di Xi Jinping che si è vista molto bene mercoledì perché la visita è stata mercoledì sia un cambiamento duraturo o una manovra tattica perché molti ritengono o temono che questa apertura di Xi Jinping sia soprattutto un tentativo di tirarsi fuori dagli impicci in un momento in cui la Cina è in una situazione abbastanza complicata la Cina sta vivendo una crisi economica piuttosto grave sta vivendo Xi Jinping stesso sta vivendo una crisi di consensi per quanto si possa parlare di consensi in Cina e quindi insomma l'idea è che voglia voglia tenersi buoni gli americani e soprattutto i businessmen americani c'è stata anche una cena con tutta una serie di businessmen c'era Elon Musk c'era 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 Voldemort anche esatto e poi quando le cose torneranno a funzionare si ricomincerà a non parlarsi più ecco mi stavo dimenticando ho dato un'occhiata alla scaletta dovevo darti là per questa cosa importantissima una cosa importante che ha detto Xi Jinping e che è stata un po' la chiave di volta di tutto questo incontro è che lui ha detto aperte virgolette il pianeta Terra è grande a sufficienza per due superpotenze e questo è un riferimento abbastanza chiaro a quella che viene definita la trappola dei Tucidide voi capite perché appunto doveva darmi il lano e stamattina stamattina si è presentato a colazione dicendo ce l'ho e quindi da qui alle tre del pomeriggio Luca Misculin ci racconta le guerre del Peloponeso molto interessante molto interessante per fortuna questo angolo superquark durerà meno di quattro ore la trappola di Tucidide è un in realtà un concetto piuttosto recente che è stato introdotto da un politologo di Harvard lui si chiama Graham Ellison e in sostanza lui ha teorizzato una decina di anni fa in realtà che in una data area geografica quando due potenze una emergente e una invece più strutturata stabilizzata tendono a convergere quindi tendono ad avere più o meno la stessa potenza militare lo stesso benessere economico inevitabilmente questo porterà a una guerra e l'esempio che si fa più spesso perché anche quello più documentato per quanto riguarda la storia antica è proprio la guerra del Peloponneso che scoppiò più o meno nel 431 a.C. perché Sparte Atene 50 anni prima alleate con tutta una storia ancora pregressa di inimicizia e ostilità si allearono per respingere l'invasione persiana nelle guerre del Peloponneso subito dopo la vittoria greca contro i persiani si decise che Atene avrebbe mantenuto una flotta e alcuni presidi sulle isole quelle che ancora oggi sono le isole greche a largo della costa turca per appunto cercare di fare da cuscinetto contro una nuova eventuale invasione persiana questo fece sì che Israele che Atene si creasse che Atene si creasse un suo impero di fatto Sparta che era una potenza di terra che appunto non aveva una flotta a sua disposizione e fu costretta di fatto a lasciare ad Atene il predominio del mare diventò sempre più sospettosa riguardo appunto alla volontà di Atene di dominare un po' tutta l'area un po' tutta l'area Aegea a un certo punto Graham Ellison lo dice si arriva a una situazione molto spesso in cui anche un incidente può portare inevitabilmente a una guerra un conflitto di più vasta scala è esattamente quello che successe fra Atene e Sparta ci furono vari incidenti a un certo punto per esempio Sparta chiesa ad Atene di non ricostruire le proprie mura perché appunto altrimenti avrebbe avuto maggiore capacità difensive e Sparta chiedeva una prova di fiducia ad Atene quello fu un piccolo incidente ce ne furono tanti altri ma Graham Ellison individua anche vari altri momenti della storia la guerra fredda diciamo è l'esempio più recente in cui in sostanza due superpotenze non possono convivere non c'è spazio in realtà per due superpotenze nella stessa area geografica questa potrebbe essere un po' la chiave per uscire da questo stallo che in questo momento comprende Stati Uniti e la Cina cioè una divisione in sostanza delle aree di influenza come fu peraltro dopo la seconda guerra mondiale eccetera eccetera abbiamo già visto che quella cosa lì quell'impianto lì ha durato insomma è durato per un po' non ha funzionato a lungo termine quindi chissà quali saranno le prospettive di Stati Uniti e Cina nei prossimi anni sicuramente insomma il nostro amico Graham Hellison ha una risposta pronta alla tesi di Xi Jinping per cui queste due superpotenze Stati Uniti e Cina possono possono convivere rimaniamo in realtà su New York Times e passiamo da una rubrica all'altra dall'angolo superquark passiamo alla rubrica visti da altri che credo sia una rubrica che esiste tuttora su Internazionale cioè una rubrica in cui vengono tradotti articoli che parlano di soprattutto politica italiana messi insieme pubblicati da giornali stranieri credo che esista tuttora prova a dare un'occhiata ma magari forse non c'è proprio in tutti i numeri ma ve ne parliamo perché il New York Times sull'edizione di oggi ha parlato esiste visti dagli altri visti dagli altri il New York Times dicevo nell'edizione di oggi del weekend nell'edizione internazionale di oggi del weekend dedica un articolo alla mostra inaugurata da Giorgia Meloni su Tolkien e ne approfitta tra l'altro titolo interessante una mostra su orchi ed elfi fa impazzire Roma e la lascia anche stupita e questo insomma ci porta anche a fare dei discorsi su ci può portare a fare discorsi in tutto su cosa arriva ai giornali stranieri del dibattito italiano che noi diamo assolutamente per scontato nel senso che la predilezione per l'estima est italiana per Tolkien ormai è un fatto raccontato e straraccontato è una cosa che però stupisce ancora molto voi pensate un ingegnere del Michigan in pensione che apre il New York Times e si legge questo vede questo titolo capite che può un po' scombinargli la visione del mondo però ci sono delle cose in più da aggiungere riguardo questo articolo assolutamente sia un articolo molto divertente vi faccio anche una missione personale diciamo così soprattutto da ragazzo sono stato molto fan di Tolkien ho letto tre volte il Signore degli Anelli e per chi sa di cosa parlo adesso gli verranno i brividi due volte del Sinmarillion applausi e poi ho smesso e Jason Horowitz che è il corrispondente del New York Times da Roma un giornalista molto bravo racconta l'inaugurazione di questa mostra diciamo con un po' di ironia anche molto mal celata devo dire e dice per esempio cerca di far capire anzitutto al pubblico Angodo Sassone il rapporto fra Tolkien e la destra perché fuori dall'Italia Tolkien non è di destra Tolkien è un autore di fantasy normale insomma e dice molte persone conoscono i libri di Tolkien come storie da raccontare a letto ai bambini o come epiche di fantasy ma per Mrs. Meloni e altri che sono cresciuti in un universo post fascista e che non potevano guardare pubblicamente al recente passato italiano per trovare degli eroi e capite bene perché le avventure di Tolkien sono hanno hanno costituito un spazio sicuro per articolare una visione del mondo e poi racconta dei campi Hobbit appunto in maniera decisamente divertita adesso che Meloni che ha 46 anni si è mossa dai margini politici della sua giovinezza al centro della vita politica italiana questa sottocultura esoterica l'ha seguita fino ai più alti templi dell'arte italiana questo è il racconto che fa che fa il New York Times di cosa succede e vabbè poi c'è tutto un racconto San Giuliano insomma ministri gente che fa saluto romano succedono un sacco di cose in questo articolo che vi consiglio che vi consiglio molto Horowitz fa anche un una una notazione che effettivamente è abbastanza interessante ma cosa cavolo c'ha da vedere in una mostra su Tolkien cioè obiettivamente Tolkien era un professore inglese che stava a casa sua e scriveva libri una mostra su Hemingway uno diceva i fucili le barche le cose una mostra su Tolkien e racconta Horowitz racconta insomma parla di eserciti di orchi in fatti con materiale acrilico l'albero di l'albero genealogico degli elfi degli uomini e dei nani una mappa interattiva sul pavimento per mostrare i viaggi di Frodo e dei suoi compagni insomma tutta una serie di cose non proprio come dire un po' messe lì diciamo così il finale è davvero perfido perché diccelo ti prego alla domanda di un reporter su quale esibizione in precedenza contenessero quegli spazi un lavoratore del museo ha risposto Picasso a proposito di sovrapposizioni fra etnia stato nazionale il regno degli elfi il regno degli uomini il regno dei nani eccetera eccetera nel nostro etno stato preferito cioè l'Ungheria succedono varie cose il New York Times anche qui facendo una scelta interessante e non scontata oggi a pagina 3 della sua edizione racconta una cosa che in realtà è una storia che sta succedendo ormai da qualche mese in Ungheria e che però è un po' interessante anche per dare conto poi di tutto un mondo sotterraneo che si sviluppa e di un sacco di cose orrende che capitano quando non ce ne accorgiamo noi ovviamente di Ungheria in Italia in Europa ci occupiamo quando appunto il governo semiautoritario di Orban promuove l'ennesima legge orribile e discriminatoria nei confronti dei migranti della comunità LGBT plus insomma quando ci sono degli eventi molto molto visibili in questo caso questa tendenza fa sì che poi le malefatte quotidiane diciamo così cioè tutta una serie di cose che stanno un po' sotto questa sticella della della legge orrenda appena approvata da Orban passino un po' sotto traccia perché ovviamente altrimenti dovremmo occuparci di Ungheria quasi tutti i giorni e in questo pezzo si racconta che ormai negli ultimi mesi l'ultima campagna che il governo Orban sta conducendo ha come obiettivo principale in sostanza le librerie le biblioteche e i musei voi sapete che Orban ormai un anno e mezzo fa ha rivinto con margine enorme le elezioni probabilmente diventerà satrapo dell'Ungheria a breve se non l'è già diventato se non c'è già una legge in corso di dibattito che sta venendo discussa in Parlamento però insomma sapete che ormai Orban ha un controllo sulla società ungherese un po' a tutti i livelli ci sono i tribunali pieni di fedei del suo partito non esistono giornali indipendenti o quasi i pochi giornali indipendenti sono diciamo stanno quasi in clandestinità io qualche mese fa sono andato in Ungheria insieme a una nostra collega del post Valentina Lovato siamo andati nella redazione del più importante giornale ungherese indipendente giornale online ungherese indipendente e loro hanno si chiamano 444 loro hanno la redazione in questo palazzo alla periferia di Budapest assolutamente anonimo non hanno nessuna insegna nemmeno sul citofono ci hanno detto di fare piano mentre salivamo perché così insomma i vicini non venivano disturbati e poi soprattutto non volevano che facessimo fotografie né alla redazione né a loro i giornalisti e giornalisti neanche di spalle mentre lavoravano questo è un po' il clima diciamo in cui si fa giornalismo in Ungheria l'ultimo obiettivo di Orban come dicevo sono musei biblioteche librerie abbiamo raccontato anche sul post qualche mese fa di questa nuova trovata del governo che in sostanza ha ordinato alle librerie e alle biblioteche di non esporre libri che parlano di omosessualità in maniera esplicita oppure se proprio devono essere esposti di avvolgerli nella plastica in modo che non possano essere sfogliati ora appunto questo è successo qualche mese fa nel frattempo le librerie si sono dovute adeguare il New York Times ricorda per esempio che l'Ira che è una delle catene di librerie più 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 diffuse in Ungheria ha ricevuto una multa di 34 mila dollari perché in uno dei suoi punti in uno dei suoi punti vendita ha esposto Heartstopper che non so se qualcuno conosce in sala ma è un famoso graphic novel per ragazzi che racconta la storia di due adolescenti maschi che insomma si avvicinano e scoprono di provare attrazione l'uno per l'altro libro che tra l'altro ha una copertina che non fa nemmeno intuire il suo contenuto però insomma un libraio la espose senza la plastica e questo ha comportato una multa di 34 mila dollari questo perché ormai da tre anni in Ungheria c'è una c'è una legge molto molto controversa in vigore contro la pedofilia e che appunto vieta di fatto l'educazione sessuale nelle scuole vieta di nominare anche solo nominare l'omosessualità sulle tv pubbliche negli eventi pubblici di esporre libri che parlano di omosessualità in libreria l'ultima vi dicevo l'ultima trovata è quella appunto di fare pressione ai direttori di musei perché evitino di esporre anche nelle esibizioni temporanee testi foto documenti che anche solo nominano l'omosessualità cosa è successo voi sapete che esiste ormai da tanti anni in tutto il mondo noi sul post ne parliamo spesso questo premio di fotogiornalismo che ormai è diventato il più famoso al mondo si chiama wordpress photo noi pubblichiamo ogni anno le foto dei vincitori sono foto incredibili che nascondono storie incredibili tra l'altro in Italia spesso vengono esposte al festival di fotografia etica di Lodi vi consiglio molto se non ci siete mai stati però insomma anche in Ungheria e per la precisione al museo nazionale ungherese di Budapest che è uno dei più credo sia il più grosso a Budapest più grande e il più visitato anche dagli ungheresi il direttore decise di esporre le foto vincitrici del wordpress photo come ormai succedeva da tanti anni tra l'altro in cui dall'articolo si legge che l'Ungheria è stato il primo paese dell'est Europa in cui le foto vincitrici del wordpress photo sono state esibite e la prima volta è stata nel 1977 e questo ovviamente creò dei guai alla persona che lo fece perché l'Ungheria era ancora sotto una dittatura comunista però il direttore del museo nazionale ungherese ha deciso di esporre le foto del wordpress photo fra le foto vincitrici ce n'è una serie fra le foto vincitrici che è abbastanza notevole racconta la storia di un gruppo di anziani uomini anziani filippini che appartengono alla comunità queer quindi alcuni sono gay alcuni sono transgender alcuni hanno diciamo non si identificano di nessun genere sessuale loro si fanno chiamare hanno una comunità che esiste da decenni ne si chiamano i golden gaze e si sono fatti fotografare da un fotografo del new york times che ha fatto loro una serie di profili e sono questi uomini filippini di una certa età truccati alcuni si truccano da drag queen altri insomma invece sono fotografati con i loro vestiti tutti i giorni in pigiama in vestaglia sono foto molto molto intime molto molto belle e che però non sono piaciute ovviamente al governo ungherese che ha licenziato il direttore del museo le foto ovviamente sono state tra l'altro non l'ha licenziato subito cioè non se ne è accorto subito che queste foto erano esposte dal museo nazionale quasi il new york times racconta che a un certo punto un oscuro parlamentare che non avevo mai sentito nominare del partito di orban è andato a visitare la mostra si è accorto di queste foto e poi insomma ha fatto sì che il direttore venisse venisse licenziato questa è una storia che di nuovo un po' piccola un po' se volete anche un po' diciamo dalle conseguenze concrete non esattamente rilevantissime nel senso che poi c'è una persona che è stata licenziata diciamo non ci sono non è non racconta diciamo questa storia non comprende sofferenze il disagio nella vita quotidiana di tante persone è il classico puntino in una serie di diciamo in una linea di cose che succedono che spesso da noi vengono ignorate ed è interessante che il New York Times si soffermi diciamo su questo puntino che fa parte di un filo più lungo puntino che appunto di nuovo magari poteva essere può avere una dimensione una rilevanza inferiore rispetto ad altri puntoni ma è interessante che il New York Times comunque scelga di raccontarlo di nuovo a pagina 3 del suo sfoglio rimaniamo sulle Filippine perché dalle Filippine è arrivata un'altra notizia interessante questa settimana una delle tante notizie interessanti successe questa settimana rimaniamo anche su New York Times giusto? non si butta via niente non si butta via niente in realtà questa è la notizia che a me ma secondo me anche a Luca è una di quelle che ci è piaciuta di più questa mattina perché getta luce su una su una su una questione di cui io non avevo la più pallida idea perché ho scoperto stamattina leggendo questo articolo che al mondo ci sono soltanto due paesi in cui il divorzio è ancora vietato proviamo secondo me li conoscete qual è l'altro paese uno è le Filippine le Filippine l'altro qual è? no non è l'Iran non è l'Arabia Saudita non è la Corea del Nord siete proprio lontanissimi il Vaticano bingo scusa ti ha rovinato il giochino no no hai fatto hai fatto molto bene e e si è una cosa che io sinceramente non sapevo neanche io e quindi a scoprire questa cosa ci siamo ci siamo molto insomma è stato molto figo e questo articolo racconta di come una serie di attivisti stia cercando di rendere legale il divorzio nelle Filippine e di come per la prima volta in decenni ci sia la possibilità un pochino più concreta di rendere il divorzio legale nelle Filippine per la prima volta racconta questo articolo che adesso mi prendo se no riesco a leggere per la prima volta il 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 sostegno nei confronti del divorzio è arrivato al 50% della popolazione le Filippine sono sono uno stato estremamente cattolico l'80% della popolazione si definisce cattolico la chiesa cattolica ha una ha una presa fortissima sullo sullo stato sono stati una colonia spagnola mi è andata male scusate i golden guys di cui parlavano di cui parlavo prima vivevano insieme per difendersi diciamo dalle discriminazioni sistematiche quotidiane che subivano all'interno della società filippina scusami prego insomma si racconta un po' di come finalmente si stia iniziando a muovere qualcosa c'è un disegno di legge in che è stato presentato al senato e le cose potrebbero cambiare fra l'altro altro elemento interessantissimo nelle Filippine soltanto i cristiani non possono divorziare perché il dittatore delle Filippine del tempo Ferdinand Marcos nel 1977 consentì ai musulmani che sono il 5% della popolazione di divorziare per cui i musulmani divorziano i cristiani no questo pezzo racconta anche in una maniera molto interessante il fatto che non consentire il divorzio alle persone soprattutto nel 2023 crea tutta un essere di abusi terrificanti per cui mantenere illegale il divorzio significa che mariti abusivi possono mantenere il controllo condiviso dei figli e hanno il diritto a una parte delle ricchezze del patrimonio delle mogli un altro problema riguarda il trauma psicologico che milioni di donne nelle Filippine intrappolate in matrimoni abusivi soffrono insomma diciamo che è una questione di cui io non avevo la più palida idea è stato molto interessante scoprirla questa mattina e raccontarla a voi andiamo un po' più veloci perché io dalla scaletta vedo altre 4-5 cose cui parlare il tempo scorre e quindi inesorabile quindi andiamo un po' più rapidi puoi mostrare per favore la pagina 7 del New York Times un'altra notizia di cui del Financial Times un'altra notizia di cui ci siamo occupati al post di cui si sono occupati i giornali italiani i giornali internazionali è stato il ritorno abbastanza sorprendente di David Cameron dell'ex primo ministro britannico David Cameron nella politica britannica c'è stato un rimpasto di governo per cui all'interno di questo di questa accozzaglia di persone messe insieme da Rishi Sunak ormai da un anno e mezzo voi sapete che i conservatori nel Regno Unito vivono una situazione piuttosto drammatica di tensioni politiche al loro interno crollo di consensi in questo momento i sondaggi gli danno 20 punti indietro ai laboristi e si vota fra un anno si dovrebbe si voterà entro il gennaio del 2025 Rishi Sunak ogni 3-4 mesi prova a inventarsene una per ravvivare un po' per cercare di raccogliere e recuperare qualche consenso l'ultima trovata che ha avuto è stata quella di ripescare David Cameron è diventato il nuovo ministro degli esteri del Regno Unito e in questo divertente pezzo del Financial Times un po' si cerca di ricostruire perché nella parte più seria perché Sunak abbia richiamato David Cameron che sostanzialmente dopo il referendum su Brexit che lui aveva indetto e che aveva perso in sostanza perché lui fece campagna per il Remain per il fatto che il Regno Unito rimanesse dentro l'Unione Europea David Cameron si era sostanzialmente allontanato dalla politica attiva aveva fatto il lobbista per insomma anche con qualche controversia apparsa sui giornali britannici negli ultimi tempi nessuno aveva avuto avvisagli del fatto che sarebbe stato richiamato per un ruolo tra l'altro di grandissimo rilievo nel Regno Unito il ministro degli esteri è considerato un po' come in vari paesi occidentali ma nel Regno Unito soprattutto visto che hanno un corpo diplomatico e una tradizione in politica estera abbastanza ricca il ministro degli esteri è considerato di fatto il vice del primo ministro ed è interessante che dopo mesi passati a diciamo spostarsi verso destra spostare il partito verso destra Sunak abbia invece tentato di invece dare una botta al centro perché Cameron è stato il più grande esponente negli ultimi vent'anni dell'ala centrista del partito conservatore è a favore dei matrimoni omosessuali ha delle visioni un po' più a sinistra rispetto a quelli che il suo partito sull'economia insomma è un personaggio era già un personaggio notevole ma è notevole insomma che sia stato richiamato in un momento del genere anche perché diciamo lo spostamento al centro di Sunak che è stato completato dal licenziamento di Suella Braverman che era la ministra dell'interno fino a questa settimana che è un po' Suella Braverman è un po' la Matteo Salvini del Regno Unito c'è una persona che ogni volta che apre bocca dice cose false che insomma punta molto sull'ostilità nei confronti del primo capo espiatorio che trova in quel momento all'interno di battito pubblico migranti stranieri in generale detenuti eccetera eccetera e Suella Braverman è stata licenziata dopo una serie di scandali di controversie di insomma di polemiche che le sono rimaste attaccate quello che ho trovato divertente e che ci permette di fare anche un po' un altro discorso metagiornalistico è che pur in un articolo appunto che cerca di analizzare il perché e il per come delle decisioni del primo ministro britannico che cerca un po' di provare a dare a indicare una direzione in cui andrà il governo il Financial Times riesce a inserire dei pezzetti di colore che comunque insomma rendono anche tutto un po' più digeribile e una lettura anche da sabato adatta a essere appunto fruita sdraiati sul divano magari insomma sorridendo sotto i baffi a un certo punto per esempio nel pezzo in cui l'articolo parla di cosa ha fatto Cameron in questi anni oltre a fare il lobbista si dice per esempio che nei mesi appena successivi alle sue dimissioni nel 2016 Cameron era solito passare le sue giornate sul divano a guardare partite di tennis è insomma interessante e si racconta anche che in realtà lui in questi anni ha sempre un po' sofferto il fatto di rimanere fuori dalle insomma dagli alti livelli della politica britannica poi ovviamente è rimasto fuori perché il suo parito si è spostato sempre più a destra lui probabilmente si è sentito sempre un po' più fuori posto però lui a un certo punto sembra che ha detto agli amici in questi giorni che insomma gli mancava tutto questo gli mancava il potere gli mancava quel friccicore insomma che ti dà probabilmente stare al governo e altre insomma voci di corridoio riportate raccolte dal financial times raccontano per esempio che nella prima riunione nel primo consiglio dei ministri tenuto da Sunak dopo la nomina di Cameron Cameron si è comportato come se non avesse mai abbandonato di fatto quella carica si è comportato come se fosse il primo ministro insomma anche questo secondo me contribuisce un po' a dare un ritratto più tridimensionale di una figura politica che noi qua conosciamo soprattutto perché è stato il primo ministro che ha condotto il Regno Unito a Brexit che ha commesso quell'errore politico secondo molti di indire il referendum che ha abbandonato in maniera un po' diciamo così ecclatante la vita pubblica ecco avere un po' un dietro le quinte di cosa è successo prima di questa nomina cosa è successo subito dopo secondo me riesce a dare un po' di tridimensionalità non potevamo concludere o comunque portare a termine questo rassegno ovviamente senza parlare dell'altra guerra che è in corso a qualche centinaio di chilometri di distanza dal posto in cui ci troviamo ora che è ovviamente la guerra in Ucraina che continua a esistere nonostante i giornali se ne occupino di meno anche i giornali internazionali ovviamente hanno dirottato un po' di risorse un po' di attenzioni al racconto della guerra a Gaza e il fatto insomma che siamo due guerre quindi che il racconto sia composto da sofferenze tragedie morti ammazzati eccetera eccetera ha spinto i giornali a non dare troppo spazio a entrambe perché altrimenti davvero le edizioni sarebbero insomma lo sfoglio di giornali di qualsiasi giornale sarebbe diventato un po' un bollettino di guerra in questi giorni però stanno un po' ricomparendo delle analisi dei punti della situazione su quello che sta succedendo in Ucraina e Eugenio ha individuato un articolo sul Financial Times se non sbaglio che prova un po' a raccontare a che punto siamo arrivati giusto? Sì esatto per confermare questa cosa che dicevi guardate dove è finita l'Ucraina sul Financial Times siamo a pagina 2 è vero però siamo in fondo in uno spazio davvero ristretto per una notizia che è anche mediamente importante nel senso che quello che è successo è che contesto sapete che è in corso da ormai questa primavera la cosiddetta controffensiva Ucraina cioè quel momento in cui l'Ucraina dopo aver subito per tutto l'inverno l'attacco della Russia cerca di contrattaccare e di recuperare terreno di recuperare il suo territorio che è stato occupato dalla Russia questa controffensiva era partita con enormi aspettative anche perché l'Ucraina nel frattempo aveva ricevuto un sacco di armi un sacco di mezzi dall'Occidente e in realtà diciamo che si sta si sta rivelando molto inconcludente il fronte si è mosso pochissimo e quello che racconta il Financial Times è che per la prima volta dall'inizio di questa controffensiva gli ucraini sono riusciti ad attraversare il fiume Ednipro che è uno dei più importanti fiumi dell'Ucraina adesso provo a farvi vedere questa è questa è la mappa dell'Ucraina adesso cosa uso per farvi vedere usiamo questo la prossima volta io vi prometto che avremo un puntatore laser che arriva fino alla luna però adesso come adesso userò un cucchiaino questa è l'Ucraina questa parte rossa ma tu vai avanti non preoccuparti quello che faccio io questa parte rossa sono i territori occupati dalla Russia qui c'è la Crimea e in pratica questo che non so se si vede il fiume Ednipro passa per di qua e poi arriva a toccare il fronte e più o meno in questa zona qui peraltro il Financial Times racconta che gli ucraini non hanno detto dove è successo ma più o meno in questa zona qui gli ucraini sono riusciti ad attraversare il fiume e ad arrivare nella parte del fiume che fino a questo momento era stata occupata dai russi ora addoniamo questa strana cosa è una notizia importante ma non esageratamente nel senso che non ci si aspetta che dopo questo avanzamento ce ne siano di ulteriori io dico sempre che potrebbero esserci delle sorprese l'anno scorso in autunno nessuno pensava che gli ucraini sarebbero riusciti a liberare tutta Kharkiv in pratica l'anno scorso i russi occupavano anche tutta questa zona qui e più o meno nel giro di un mese gli ucraini la liberarono all'improvviso senza che nessuno se ne fosse senza che nessuno l'avesse l'avesse previsto per cui potrebbe succedere un po' di tutto la verità è che adesso come adesso l'obiettivo degli ucraini che era quello di tagliare di tagliare le forze russe in due e sfondare e arrivare fino al Mar Nero così per cui tagliare questa parte qui delle forze russe questo obiettivo in questo momento non è stato raggiunto tanto che in una intervista molto letta di un mese fa al capo delle forze armate ucraine lo stesso capo delle forze armate ucraine ha detto siamo arrivati a uno a uno stallo e ha paragonato la situazione alla prima guerra mondiale in cui i due eserciti il livello tecnologico dei due eserciti è così paritario che nessuno dei due riesce ad attaccare l'altro con successo gli ucraini cercano di avanzare i russi li vedono gli sparano con i droni i russi cercano di avanzare gli ucraini li vedono gli sparano con i droni e va avanti così all'infinito tanto che ultimamente si è cominciato a parlare anche in circoli politici piuttosto elevati del congelamento del conflitto cioè prendere prendere atto del fatto che gli ucraini non riusciranno a riconquistare tutto quel pezzettone di terra rosso che abbiamo visto che è il 17% del loro territorio un posto in cui vivono tra i 4 e le 6 milioni di persone e che il conflitto rimarrà un po' così congelato lo teniamo lì vediamo che succede il new york times in prima pagina questa è un'eccezione alla regola che stavamo raccontando prima racconta in realtà cosa succede all'interno di questi pezzettoni rossi di territorio che abbiamo visto e che sono occupati dalla russia il new york times ha intervistato tutta una serie di persone ucraine che vivevano nelle zone occupate e che sono scappate e che hanno raccontato che cosa succede lì dentro e parlano di adesso ve la faccio ve la faccio molto breve però l'articolo continua pagina 4 cioè continua parlano di una donna che si chiama Olga ha descritto come i soldati siano entrati nella sua casa e abbiano picchiato suo marito con una padella è andata così accusandolo di appartenere alla resistenza ucraina e mentre lo colpivano le ha detto gli hanno urlato chi sta aiutando li hanno messi in prigione tutti e due e li hanno interrogati i soldati hanno separato la coppia e Olga ha detto che hanno detto a lei e Olga ha raccontato che le hanno detto i soldati russi che suo marito aveva già confessato di essere una spia e quindi hanno incoraggiato Olga a dargli la colpa il marito è poi stato trovato il corpo del marito è poi stato trovato in una foresta fuori dalla città e c'è tutta questa serie di racconti di persone che in alcuni casi vengono a compromessi con la forza occupante in altri casi cercano di resistere insomma questo articolo cerca di raccontarci il fatto che congelare il conflitto in Ucraina non significa soltanto porre fine allo scontro nell'immediato ma significa anche lasciare tra le 4 e le 6 milioni di persone in una situazione che come dire usando il neofenismo possiamo definire brutale a proposito di conflitti dimenticati per continuare questa serie diciamo così gioiosa e spensierata mentre ci avviamo alla conclusione diversi giornali internazionali in questi giorni e nelle ultime due settimane hanno anche un po' riaffacciato la testa hanno anche un po' sono tornati a occuparsi di Sudan un paese di cui in Italia abbiamo sentito parlare per due settimane tantissimo a marzo quando è scoppiata la guerra civile fra l'esercito regolare in sostanza e il suo comandante generale al-Buran e delle forze separatiste le RSF guidate dal generale da Galò chiamato anche Emeti forse avete conosciuto con questo nome ma insomma questo è un conflitto che continua ad andare avanti ci sono continui scontri un paio di settimane fa l'esercito dell'RSF quindi le forze separatiste hanno occupato un'altra importante città occupano già ormai da mesi Khartoum che è la capitale del Sudan e l'Economist in questo numero dedica almeno due articoli al Sudan entrambi molto interessanti innanzitutto perché contengono una serie di dati e informazioni appunto che ci permettono un po' di di fare il punto della situazione su cosa è successo negli ultimi mesi cioè da quando ci siamo distratti un po' su quello che stava accadendo in Sudan e in sostanza l'Economist dice che in Sudan stanno succedendo quattro cose abbastanza orrende la prima ovviamente la conosciamo la guerra civile tra i due eserciti che ovviamente ha innescato tutte le altre violenze successive la seconda è in sostanza una una lacuna di cibo diciamo le violenze hanno di fatto fermato tutta l'industria sudanese che in parte è basata sull'agricoltura le persone non hanno più cibo i negozi sono vuoti ci sono 20 milioni di persone in questo momento in Sudan che soffrono la fame su circa 46 milioni di persone la terza crisi la terza cosa orrenda che sta succedendo in Sudan è che si stanno riattivando dei conflitti etnici in Darfur nel senso che le RSF sono anche delle forze che hanno una componente di nazionalismo arabo molto importante il Sudan sapete in pratica è l'ultimo paese arabo a sud a sud del mondo i conflitti in Darfur quelli appunto i più noti conflitti in Darfur appunto videro contrapposte le milizie arabe e le persone non arabe in sostanza si stanno riattivando una fonte dell'ONU dice l'Economist sostiene che nelle ultime due settimane le milizie dell'RSF abbiano ucciso fra le 600 e le 1300 persone non arabe in Darfur la quarta crisi che sta accadendo in Sudan dice l'Economist è l'indifferenza del resto del mondo il Sudan è un paese che tanti di noi non saprebbero indicare su una cartina con cui non abbiamo grandissimi rapporti anche la comunità sudanese in Italia è abbastanza insomma dimensioni abbastanza ridotte la lettura di giornali internazionali di riviste internazionali in questo caso l'Economist ci aiuta secondo me un po' anche a tenere presente che nel mondo stanno succedendo anche altre cose insomma oltre a quelle che troviamo più di frequente sui giornali in posti del mondo con cui magari non abbiamo un'affinità con cui insomma per cui non abbiamo diciamo per cui che non ci stimola diciamo ad avere posizioni forti come per esempio la guerra in Israele come per esempio la guerra in Ucraina di nuovo però appunto nel mondo queste cose succedono e a volte purtroppo bisogna avere una certa dimestichezza con i giornali internazionali per per saperne di più ecco voi sapete che insomma Luca e Francesco ve l'avranno detto molto molto spesso la copertura che fanno degli esteri giornali italiani a parte alcune eccezioni a parte il post ovviamente non è così estesa non è così sistematica diciamo così per non chiudere con di nuovo morti ammazzati violenze in mani dolori abbiamo una storia che ci ha regalato sempre l'economist tra l'altro sempre l'economist una storia molto interessante che però vi lascio raccontare Eugenio sì stamattina chiudendo la scaletta ci siamo detti che dovevamo chiudere su una nota leggera ci siamo messi a sfogliare un po' nervosamente i giornali alla fine abbiamo abbiamo trovato questa cosa qui ho deciso che mi sarei immolato io perché per raccontarvi questa storia devo farvi una confessione personale e questa confessione personale è che a me non piace tanto il vino lo so aspettate che non è non finisce qui aspettate aspettate io un po' per educazione un po' per cultura non lo so insomma però non lo capisco il vino non ci arrivo diciamo che con il vino ho il gusto di un bambino di 12 anni o peggio ancora ho il gusto di uno studente tedesco in Erasmus e quindi è capitato diciamo è capitato nel buio della mia della mia casetta o in piccoli consessi con amici molto comprensivi che quando mi trovavo davanti a dei vini rossi magari non di grande qualità ecco però un po' quelli tosti occhio che arriva è capitato di metterci un goccino di coca cola dentro lo so lo so lo so lo so giornalista lapidato al circolo dei lettori di Torino raiot a Torino buonissimo peraltro e quindi diciamo che faccio i mischioni con il vino e quindi ho trovato questo articolo di questo imprenditore indonesiano che negli Stati Uniti è stato è stato arrestato e gli è stata fatta una multa peraltro da 28 milioni di dollari perché lui faceva dei mischioni però con i vini di lusso cioè prendeva una bottiglia di Chateau pazzesco e ci metteva dentro vini non esattamente vini di bassa qualità però riusciva a fare un mischione così così buono così convincente così convincente che la gente pensava che fosse lo Chateau pazzesco quindi infatti questo articolo inizia per fare un io non so pronunciare il francese un Mouton Rothschild del 1945 mischi due parti di Chateau Cosse d'Estorniel e una parte di Chateau Palmer e il Cabernet della California scusate devo avere macellato tutti questi nomi di queste bottiglie favolose tranne il Cabernet della California che mi sembra che sia il vino scarso in questo caso mi sembra perché non ne ho idea per correggere Eugenius la pronuncia globo chiocciolailpost.it mi raccomando e quindi c'era questo imprenditore Rudy Kurniawan che faceva queste cose è stato beccato ed è stato messo in prigione quando però è uscito di prigione nel 2021 Kurniawan è tornato a fare queste cose questa volta legalmente e ha scoperto che alla gente i suoi mischioni piacciono un sacco cioè che lui prende due vini due o tre vini di qualità medio-bassa e ne crea un vino apparentemente sto leggendo qui più buono e tanto che dicono il signor Rudy Kurniawan è un genio del vino e questo articolo che in realtà è la recensione di un libro che si chiama Vintage Crime di Rebecca Jib che a questo punto mi leggerò sembra molto interessante anche per scovare nuove ricette forse questo punto racconta di come il vino abbia delle somiglianze con il mondo dell'arte si basa sulle opinioni degli esperti che però possono essere gabbati tanto che appunto c'è tutta una serie di racconti a partire dall'impero romano Plinio il Vecchio sosteneva che il vino che bevono i soldati non può essere nemmeno definito vino ti sto rubando il mestiere Minsk e conclude raccontando come la Cina sia diventato il luogo in cui le truffe sul vino sono più frequenti in alcuni casi sono anche molto evidenti però tendenzialmente un quarto dei produttori di vino della Cina secondo questo articolo produce vino fraudolento cioè mettono delle etichette molto appreggiate per poi mettere nelle bottiglie un vinaccio a tal punto che racconta questo articolo molti produttori di vino quando fanno le degustazioni di bottiglie molto pregiate in Cina pretendono che dopo aver finito la bottiglia venga presa e rotta perché così non può essere riutilizzata beh notevole grazie manca l'ultima cosa che abbiamo segnato sulla nostra scaletta forse la più importante e cioè che dietro di voi sul bancone del circo dei lettori che trovate qua fuori ci sono delle copie dell'ultimo numero di cose spiegate bene la rivista del post l'ultimo numero è sul Natale noi l'abbiamo sfogliato oltre che averci scritto delle cose sopra è molto molto carino è fatto molto bene ma noi non siamo le persone più imparziali per dire questa cosa vi svolta i regali di Natale ovviamente Eugenio sarà disponibile per firmare tutte le cose di copie di cose Natale però scrivo Babbo Natale oppure Emanuele Menietti che dire grazie per essere stati qua grazie al circolo dei lettori ci rivedremo chi può dirlo con una bella bottiglia di vino da rompere alla fine di questo consesso grazie buon weekend a tutti grazie grazie a tutti